Andiamo con il prossimo disco, restate con noi, Radio Gamma 5, amore, fino alla fine, till the end con Lorenzo Speed, with Lorenzo Speed at radiogamma5.it, radiogamma5.it Allora, quello di prima era la colonna sonora, in chiave ovviamente remixata, del film Il Pirata dei Caraibi, questo invece è la colonna sonora di un altro film che a me piace tantissimo, che secondo me è straordinario, che si chiama Braveheart. Ciao, grazie per la compagnia e la musica che ci hai regalato, se per caso hai spazio per Freefall di Jack Lide, mi pare, Michele. No, ho un Freefall, ma non di Jack Lide, ho Freefall di New Energy, cioè Giuseppe Ottaviani ed Andrea Ribeca. Faccio una richiesta a Raul Casadei, ok, grande, questo è Robby Percussion, salutiamo gli amici di Casa Leone, provincia di Verona. Altro messaggio che dice, ciao Lore, un saluto a te e tutti gli ascoltatori in questa giornata orribile, almeno un po' di buona musica, grande, questo è DJ Marcus e anche lui di Casa Leone, Verona. Quindi salutiamo gli amici veronesi all'ascolto, guarda Facebook sul profilo Amore, dice il buon Fabio di Marostica. Ok, ok, dopo controlliamo tutto, restate con noi, fino alla fine vogliamo sentire i vostri messaggini. Scriveteci adesso, non aspettate che sia troppo tardi, scriveteci adesso alle 14.37 ai numeri di telefonia mobile, rispettivamente 349-7267-647 ed anche 334-7102672. Se invece volete chiamarci, 049-700-700, 049-700-838. Viaggiamo, voliamo e sogniamo con la Dea Musica, perché la Dea Musica è amore, amore, amore. Grazie a tutti. 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 Armin van Buren. Grazie a tutti. 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 di Fusion Project, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stavamo parliamo. Grazie a tutti. in Italia. Grazie a tutti. in Italia. Grazie a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti.